È successo letteralmente di tutto in questa prova dell'Omnium Olimpico a Tokyo 2021 e così come Rio 2016 Elio Viviani riesce a salire sul podio olimpico, purtroppo non in prima posizione come è successo in Brasile, solamente tra tantissime virgolette in terza posizione ma onestamente non ci si poteva aspettare di più dal veronese perché intanto gli anni sono passati, l'età avanza ma soprattutto è cambiato il format di gara. A Rio furono sei le prove, quest'anno invece quattro disputate in una sola giornata, ne parleremo in seguito di quello che è stato il format di gara, il dettaglio appunto, quelle che sono state le quattro prove, mentre non riescono a salire sul podio Jan Willem, Wanskip e Benjamin Thomas, i due grandissimi favoriti, soprattutto il francese che io davo praticamente come oro già fatto. Si studiano troppo, soprattutto nell'ultima prova si sono studiati tantissimo, Matthew Wals furbo, era già in prima posizione in classifica generale, riesce subito a guadagnare un giro e praticamente a blindare la medaglia d'oro, veramente strepitosa la gara del giovane britannico, mentre i due grandi favoriti studiandosi troppo non chiudono nemmeno sul podio olimpico. Veramente una delusione assurda per i francesi e per gli olandesi, mentre Elie Viviani fa una cosa fantastica, perché dopo la prima prova era tredicesimo, dopo la seconda undicesimo, dopo la terza che ha vinto sesto e poi nell'ultima riesce ad agguantare il podio e per pochissimo non riesce a guadagnare una medaglia d'argento. Quindi veramente una prova fantastica di Elie Viviani, mentre deludono tantissimo i grandi favoriti. Ma parliamo un po' di quello che è il format di gara, format di gara che si sviluppa appunto su quattro prove, la prima è lo scratch, il più facile in assoluto, una prova disputata su 10 km, 40 giri e la classifica è basata praticamente sui piazzamenti, quindi il primo guadagna 40 punti, il secondo 38, il terzo 36 e via via andare. La seconda prova, quella che a me piace di meno, è la Tempo Race, una prova che è disputata anche qui sulla distanza di 10 km, a ogni giro viene disputata una volata dove il primo, quella che passa in testa, guadagna un punto ed è possibile guadagnare 20 punti doppiando il gruppo e quindi guadagnando appunto un giro. La terza prova, quella che a me piace di più in assoluto, è una prova veramente bellissima, è la Elimination Race, la corsa d'eliminazione. Anche qua piuttosto facile da comprendere, lo dice il nome stesso, ogni due giri viene disputata una volata e l'ultimo del gruppo viene eliminato. Si arriva poi appunto al finale dove rimarranno 3-4 corridori, vengono eliminati ogni due giri e poi l'ultimo che riesce a tagliare l'enda del traguardo in testa viene appunto decretato vincitore della prova. L'ultima è spesso la decisiva appunto di questa prova, è la corsa punti a differenza delle prime 3 prove dove viene assegnato un punteggio di 40, 38 e 36 ai primi classificati e via andare ovviamente. Nella corsa punti ogni punto conquistato vale appunto per la classifica generale, quindi viene sommato ai punti già conquistati con i piazzamenti nelle prime 3 prove. Ed è proprio per questo che è una delle prove decisive. Ogni 10 giri viene disputata una volata dove vengono assegnati 5, 3, 2 e 1 punto ai primi 4 classificati, mentre è possibile anche qui guadagnare un giro e quindi guadagnare 20 punti su tutti gli altri in caso appunto di guadagno del giro. Per quanto riguarda la prima prova la vittoria va al britannico Matthew Walls che riesce assieme a Niklas Larsen, a Jan Willem Wanskip, a Benjamin Thomas e a Artyom Zakharov sostanzialmente a doppiare il gruppo e quindi a riportarsi in testa e a conquistare una vittoria molto facile davanti proprio a Wanskip, a Thomas, a Zakharov e Larsen. Quindi 40 punti conquistati dal britannico. La prima posizione del gruppo viene conquistata da Sam Wellsworth, l'australiano che guadagna 30 punti, ma le Leviviani solamente tredicesimo guadagna 16 punti. Nella tempo race invece l'attacco decisivo viene lanciato da Wanskip seguito da Thomas Larsen e Thierry Scheer, su cui rientra anche il nostro Leviviani che stavolta si fa trovare pronto nel momento decisivo. Guadagnano il giro successivamente anche De Ketele e purtroppo anche Matthew Walls, che si era fatto sorprendere in prima battuta ma poi è riuscito a rientrare, a guadagnare anche lui il giro, assieme anche a Simon Sainok. Mostra di astuzia di Jan Willem Wanskip. Qui è stato veramente fantastico, 200 EQ per il nerelandese che resta sempre a 5-10 metri dal gruppo, sembra che fatica a rientrare lì. Oh, sto facendo fatica, non riesco a rientrare. E pian piano si guadagna tutti gli sprint, guadagnando ben 10 punti. Poi, a due giri dal termine, rientra in gruppo, guadagna i 20 punti del giro preso e così riesce a vincere la prova e a guadagnare appunto 40 punti in classifica generale. Solamente ottavo Elia Viviani che comunque risale di due posizioni ritrovandosi undicesimo praticamente a 34 punti dalla prima posizione. Prima posizione che è occupata da ben tre corridori a pari merito, Jan Willem Wanskip, Benjamin Tomah e Matthew Walls a 76 punti con 14 sulla quarta posizione del danese Niklas Larsen. Niklas Larsen che tra l'altro abbiamo visto in azione anche ieri nel quartetto battuto dal nostro quartetto italiano che ha conquistato l'oro, veramente fantastica la gara di ieri. Comunque passiamo all'Elimination Race, Elimination Race bellissima, sempre, che è anche la prova preferita dai nostri italiani, sia il femminile ma anche il maschile appunto con il nostro Elia Viviani che appunto riesce a conquistare la prova. Rischia tantissimo Benjamin Tomah per cinque giri consecutivi e alla fine viene eliminato come sest'ultimo, quindi sesta posizione per Benjamin Tomah. Viene poi eliminato Campbell Stewart, il neozelandese. Viene poi eliminato Jan Willem Wanskip, quarto. Terza posizione per Scheer, lo svizzero che Molla praticamente era completamente esausto e quindi si accontenta di una terza posizione. Rimangono solamente Matthew Walls che era leader, co-leader appunto della classifica generale e il nostro Elia Viviani. In testa c'è il britannico che prende appunto la volata in prima posizione, questo favorisce Elia Viviani che riesce a uscire a circa un giro dal termine e a conquistare appunto la prova e i 40 punti della prima posizione. A questo punto Matthew Walls è in prima posizione in solitaria, 114 punti per lui, 110 per Jan Willem Wanskip, 106 per Benjamin Tomah, stessa posizione per Elia Viviani a 82 punti, ancora piuttosto distante appunto dal podio. Qui sembrava appunto una lotta a due tra Wanskip e Tomah per cercare di inseguire Matthew Walls e invece così non è stato perché nella prova finale appunto nella point race subito vanno a prendere il giro Roger Kluge e Jauheni Karaljok, il tedesco e il britannico, l'esperto tedesco Roger Kluge. Mentre fa una grandissima mossa Matthew Walls che da solo riesce a guadagnare uno sprint e soprattutto a guadagnare un giro. Il gruppo in quel momento è fermo, parte con una fiondata micidiale il giovane britannico che corre su strada con il team Bora Hansgrohe, sfrutta appunto lo studio tra Benjamin Tomah e Jan Willem Wanskip e va a conquistare un giro e va a consolidare la propria posizione di testa in classifica generale. Prende in seguito il giro anche Campbell Stewart, anche lui in solitaria, anche questa sarà una mossa decisiva per la conquista delle medaglie. Lo vedremo appunto in seguito. Grande azione in seguito del nostro Elia Viviani su cui però rientrano anche Roger Kluge e Jauheni Karaljok, i due che avevano già preso in giro in precedenza. Riesce Elia Viviani a guadagnare lo sprint dei meno 60 e dei meno 50, i tre arrischiano provando a rimanere dietro al gruppo così come aveva fatto Jan Willem Wanskip nella tempo race, per cercare di guadagnare appunto i punti degli sprint, ma il gruppo decelera talmente tanto che praticamente senza volerlo si ritrovano all'interno del gruppo e quindi comunque guadagnano i 20 punti del giro a cui per quanto riguarda i nostri Elia Viviani si sommano i 10 punti delle due volate vinte. Wolves riesce a conquistare la volata dei meno 40 riportandosi su una posizione di estremo vantaggio sul nostro Elia Viviani che nel frattempo era risalito in seconda posizione. Seguito appunto dal nostro Elia Viviani che riesce a guadagnare ancora qualche punticino su Benjamin Tomah e Jan Willem Wanskip che chiudono rispettivamente in terza e in quarta posizione. È in meno 20 e Elia Viviani riesce a conquistare un altro sprint e a portare a casa altri 5 punti. Poi arriva l'attacco decisivo per la conquista dell'argento, quello di Albert Torres, lo spagnolo, che viene subito seguito dal danese Niklas Larsen e soprattutto dal neozelandese Campbell Stewart. Dietro contraattacca Viviani seguito da Matthew Wolves che non vuole mollarlo, su cui rientra anche De Ketele. Però purtroppo Campbell Stewart quando mancavano solamente due giri dal termine riesce a prendere il giro e a portarsi appunto in seconda posizione. Alla fine nella volata finale vincerà lo svizzero Thierry Scheer che conquista 10 punti perché appunto la volata finale vale punteggi doppi. Davanti a Matthew Wolves ancora una volta, quindi veramente il dominatore di questa gara. Terza posizione per Sam Wellsford e poi quarta posizione per Elia Viviani che porta a casa altri due punticini che però non bastano per conquistare una posizione appunto che gli avrebbe consentito di vincere l'argento, però comunque gli consentono di difendersi e di mantenere la propria terza posizione, il proprio bronzo olimpico. Vittoria dunque per Matthew Wolves con 153 punti, di cui 39 guadagnati nella prova finale. Seconda posizione per Campbell Stewart, 129 guadagnati 51 nella prova finale, il migliore appunto della point race considerando appunto i due giri presi, l'unico a farlo. Anzi no, c'è stato anche Roger Kluge e Yawieni Karaljok però non hanno fatto tanti punti negli sprint e soprattutto erano indietro dopo le prime tre prove. Terza posizione a 124 punti, di cui 42 guadagnati nella prova finale per Elia Viviani. Benjamin Tomade, Ludek, solamente quarto, 118 punti, solamente 12 guadagnati nella prova finale. E ancora peggio, fa Wanskip che chiude addirittura dietro a Larsen, stessa posizione per il nerelandese, due punti guadagnati nella point race. Disastro totale per Jan Willen Wanskip nella corsa punti, che in teoria sarebbe adattissimo alle sue caratteristiche. L'abbiamo visto spesso vincere prove mondiali, magari dell'omnium appunto, proprio della corsa punti, facendo la differenza in questa prova. Quindi, veramente delusione per l'Olanda, gioia per la Gran Bretagna, ma in un certo senso gioia anche per l'Italia, con un'ottima medaglia conquistata da Elia Viviani, una medaglia quasi insperata e totalmente insperata dopo le prime due prove. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, vi invito certamente, piacere iscrivervi, iscrivervi e iscrivervi, ci sono la nostra pagina di Instagram e ci vediamo un prossimo video. Comunque ragazzi, direi che per l'Ontario,